Buongiorno a tutti e ben ritrovati. La scorsa volta ce l'avevamo lasciati mettendo a fuoco tre messaggi principali. Il primo, molto ovvio, i soldi non sono un problema, le risorse europee sono anche nostre, quindi dobbiamo imparare a utilizzarle in maniera non episodica e possibilmente facendo un po' anche di sinergia tra i vari attori che rappresentano i territori comuni in genere il nostro paese. Il secondo messaggio è che per utilizzare i fondi comunitari dovevamo ricordarci del fatto che queste risorse vengono assegnate in secondo delle procedure, dicevamo competitive, quindi abbiamo delle gare a cui dobbiamo partecipare, preparandoci nel migliore dei modi possibili, però includendo sin da principio l'opzione disastro. Da questo secondo punto di partenza era derivato un messaggio molto forte che vi rinnovo anche oggi, che era quello di imparare a guardare alle diverse alternative di finanziamento comunitario non partendo da un approccio settoriale, ma lavorando sui cosiddetti aspetti di finanziabilità, cioè quelle caratteristiche che ognuna delle vostre idee può avere e che ci consentono di agganciare diversi fondi europei. Il terzo messaggio che ci eravamo dati è che così facendo riusciamo da una parte a includere sin da principio l'opzione disastro, quindi ragionare sempre in un'ottica di piano A e piano B, primo progetto di finanziamento da utilizzare e poi il piano di riprotezione, dicevamo la scorsa volta. Ma da questa capacità di creare una visione integrata delle alternative di finanziamento deve discendere anche una consapevolezza che i soldi non sono nostri, non sono risorse del nostro budget, sono risorse che vengono da un bilancio, quello dell'Unione Europea, che come tutti i bilanci pubblici ha questa forte e necessaria valenza autorizzativa, per cui il nostro problema è imparare non soltanto a capire quali risorse potremmo utilizzare per il nostro territorio, ma anche come possiamo vestire quello che serve a noi, raccontare quello che a noi veramente interessa, perché sia immediatamente percepito dal valutatore e anche dal soggetto che gestisce il programma, la pertinenza tra quello che interessa a noi e quello che in realtà la policy da cui poi originano i programmi è autorizzata a pagare. Ed ecco perché il webinar di oggi, che è il secondo appuntamento dei tre che avremo, vi ricordo che anche domani ci rivediamo a mezzogiorno per andare sempre più sulla parte pratica di cosa significa portarsi a casa le risorse dell'Unione Europea, ecco perché il focus di oggi, vi dicevo, ha questo titolo che è il passaggio dalla fase di pianificazione ad una reale programmazione operativa, quindi qui piuttosto che una panoramica informativa sulle risorse che abbiamo a disposizione metteremo il fuoco su cosa bisogna veramente, che il nostro progetto racconti per avere chance di finanziamento. Abbiamo caricato nella piattaforma a supporto del primo webinar tutta una serie di materiali informativi, sono fonti pubbliche come vi dicevo la scorsa volta che sono comunque frutto di investimenti che la Commissione del Parlamento Europeo fanno per aumentare il grado di conoscenza e di utilizzo delle risorse comunitarie, quindi a corredo del primo webinar vi trovate delle schede che presentano un po' tutti i programmi disponibili, ma anche vi trovate tutta una serie di siti web che di fatto hanno questa funzione di cassa di risonanza sui programmi. Allora veniamo al tema di oggi, come l'altra volta mi sono divertita a trovare un sottotitolo al titolo ufficiale e mi viene da dire che se il titolo ufficiale del webinar di oggi è il passaggio della fase di pianificazione alla programmazione operativa, il sottotitolo è così è se vi pare. In che senso? Nel senso che dobbiamo comunque diventare dei cecchini, degli sniper dei progetti e questo lo riusciamo a fare se riusciamo davvero ad applicare due tecniche. La prima è quella di avere chiaro in mente che se il terzo pagante che ha le sue finalità e i suoi obiettivi è interessato a pagare il nostro progetto è perché il nostro progetto deve appartenere alla categoria del progetto perfetto. Provate a scrivervi questa parola perfetto in verticale e immaginatela come un acronimo, a ogni lettera di questo acronimo corrisponde un filtro a maglie via via più strette. Allora se il terzo pagante dà soldi a noi visto che lui è stato autorizzato soltanto a realizzare la sua di policy e non a pagare il nostro progetto, il nostro progetto deve essere innanzitutto pertinente, vuol dire che deve essere assolutamente coerente con quelle che sono le finalità della policy. Da un punto di vista applicativo questo significa che qualunque sia il progetto a cui sto pensando, il primo passaggio che devo fare per passare dal volere al fare è realmente un passaggio di lettura dei documenti ufficiali della policy europea. Vi faccio un esempio, se voglio stimolare i miei cittadini a utilizzare delle forme di mobilità urbana a impatto zero e voglio ad esempio distribuire una tessera dove loro possono accumulare crediti, accumulare punti che poi spendono in una serie di esercizi convenzionati purché non usino l'auto propria ma camminino a piedi, usino la bicicletta, usino i mezzi pubblici. Se io comunque riesco a mettere in evidenza che in questo progetto al di là dell'impatto sul trasporto, io ho anche un impatto in termini di salute dei cittadini e ho la possibilità di sottolineare questo aspetto e se mi vado a leggere il documento di policy che ammonte di un programma gestione diretta di cui non abbiamo parlato la scorsa volta ma che per completezza è sempre per arricchire gli spunti per la vostra curiosità, vi metto in evidenza, che è il programma Health, il programma europeo per promuovere la salute. In questo programma tutto quello che si traduce in attività fisiche che i cittadini fanno e che possono migliorare lo stato di salute o prevenire l'insorgenza di determinate patologie viene pagato, quindi anche un sistema di bigliettazione alternativa dell'accesso ai mezzi pubblici potrebbe essere pagato dal programma per la salute. Ma devo sapere che per essere considerato pertinente il mio progetto non può parlare di mezzi pubblici, deve parlare di azioni, di awareness, quindi stimolo della consapevolezza dei cittadini su tutto quello che è HEPA, che è Health Enhancing Physical Activities. Quindi anche in questo caso il primo passaggio è non pagano voi, vi pagano soltanto se siete il miglior mezzo per realizzare la policy e questo esercizio di abbinamento tra quello che voglio fare io e quello che la policy è disposta a pagare non può essere fatto scrivendo a mano libera quello che io voglio che mi venga finanziato, ma su questo tema ritorneremo anche più tardi oggi e anche nel webinar di domani. La costruzione di una proposal, di una richiesta di finanziamento è davvero un tipo di scrittura molto tecnica, dove più cito i riferimenti ai documenti essenziali meglio è. Allora la prima P, la prima lettera della parola perfetto sta per pertinenza, il vostro progetto non passa, non verrà mai finanziato se non è assolutamente pertinente rispetto alle policy. La seconda lettera è, e la è di efficacia, nessuno pagherà mai la piscina comunale, nessuno pagherà mai la pista ciclabile, non sono gli output, quello che la Commissione Europea è disposta a pagare, ma sono gli outcome, non è quello che voi buttate fuori utilizzando le risorse, non sono le realizzazioni in termini di beni e servizi, ma quello che viene finanziato è sempre un vantaggio, un beneficio che la vostra realizzazione produce, ha bisogno di target group o stakeholders, di persone fisiche e persone giuridiche. Quindi la domanda da fare e a cui rispondere dentro un formulario è, dati quelli che sono i target group messi in evidenza dalla policy, perché anche in questo caso il programma si occuperà di minori, di sabi, di imprese, a seconda della politica che lo finanzia, quindi creando questo parallelo tra i vostri target group e quelli del progetto, dobbiamo riuscire a spiegare che se faccio la pista ciclabile, questo si traduce in un incremento del fatturato a beneficio degli operatori turistici, quindi ricordatevi che i progetti per essere finanziati devono innanzitutto essere outcome centred, devono essere comunque centrati sugli outcome che devono essere sempre perimetrati a partire da una conoscenza delle policy. Il terzo elemento che ci interessa mettere in evidenza in questa parola perfetto è che il nostro progetto deve essere rilevante, rilevanza. L'Unione Europea finanzia ogni anno centinaia di migliaia di progetti e questi progetti essendo finanziati con risorse pubbliche sono ovviamente conoscibili a chiunque. Allora un esercizio che è sempre un esercizio anche stimolante perché allarga la mente vi fa conoscere nuove esperienze messe in campo altrove è prima di iniziare a focalizzare il mio progetto cercare di mettere in evidenza quali sono dei progetti già finanziati molto simili. Come si fa? In maniera molto semplice utilizzando Google o qualunque altro motore di ricerca e cercando il tag giusto. Quindi se io ad esempio mi volessi occupare di osmosi inversa per l'iscatolamento del pomodorino, cerco su Google EU Project on osmosis and food perché magari sul pomodoro non hanno ancora fatto qualcosa, provateci se volete e vedrete che sicuramente escono fuori dei progetti finanziati che mi fanno da traccia, da traccia di lavoro già costruita rispetto alla quale io posso anche costruire la struttura base del mio progetto, quindi la rilevanza però è importante perché il progetto che io presento non può essere una copia identica degli 80 mila progetti già finanziati su quel tema dell'Unione Europea. Prendo e capitalizzo quello che è stato già finanziato, lo cito sin anco nella richiesta di finanziamento che presento, ma ne approfitto per mettere in evidenza qual è il valore aggiunto che il mio progetto comunque riuscirà a creare rispetto a tutto quello che già c'è. Quindi sintetizzando è come se un nostro progetto avesse un 80% che è allineato e molto simile a quello che è già stato finanziato ad altri progetti e la logica qual è? Se tu Europa con quel programma hai già finanziato 10 progetti che hanno questa struttura, è ovvio che il progetto fatto così ti piace, quindi piuttosto che rischiare con una innovazione dirompente, l'80% della struttura del vostro progetto vi conviene che sia allineata alla struttura che ritorna nei 10 progetti già finanziati, però l'Unione Europea non è un pagatore stupido, quindi non ripaga 10 volte cose che già esistono e in questo senso quindi il consiglio è cercate di capire qual è quel 20% del vostro progetto che può in qualche modo essere di stimolo e di già un po' spostare la linea un po' più avanti rispetto allo stato dell'arte che esiste non nel vostro territorio ma a livello europeo. In questo caso, come vi dicevo, anche guardare a quello che accade in altre parti d'Europa è uno stimolo per introdurre dell'innovazione nel nostro modo di governare la crescita dei territori, ma anche mi viene da dire per mettere in sicurezza quelle che sono delle sperimentazioni, delle innovazioni che noi vogliamo proporre su scala locale. La quarta lettera della parola perfetto è la F di fattibilità. L'Unione Europea è preoccupatissima di dare risorse a progetti che poi non riescono a spenderle. Io dico sempre da esperta di politica e di bilancio pubblico, sarà capitato anche a voi. Quando io stanzio delle risorse per una politica, avere delle economie può significare soltanto due cose. Può significare che hai o programmato male, quindi hai stimato male quello che ti serveva, o hai gestito male, non hai realizzato tutto quello che avevi previsto di realizzare. Quindi in genere l'esistenza di economie in un contesto di finanza pubblica, più che essere pensato come un qualcosa di virtuoso, un qualcosa da mettere in evidenza, molto spesso è il segno di una fase di costruzione della politica o di realizzazione della politica che può essere migliorata. La stessa cosa vale anche a livello europeo. Il grosso territorio dell'Europa è di selezionare progetti che poi non riescono a spendere le risorse che sono state assegnate. Ecco perché è importantissimo raccontare il nostro progetto come fattibile, cioè come un qualcosa che si traduce in un insieme di attività che realmente sono coerenti con la durata che abbiamo a disposizione in termini di tempo e con il budget che chiediamo per quelle attività. Mi viene da dire che è semplice e buonsenso, non si può andare sulla luna in ritorno con 10 mila Euro e un anno di tempo. Non si possono, diremmo col buonsenso popolare italiano, fare le nozze con i fichi secchi. Allora cercate sempre di calibrare in anticipo questa dimostrazione di fattibilità in termini di coerenza temporale e congruità rispetto al budget delle attività che raccontate in un progetto. Sta prendendo piede un po' in questo mondo di esperti e consulenti che affiancano chi vuole presentare progetti europei. Il mio parere personale su questa dinamica è che uno dovrebbe imparare a pescare e non farsi dare il pesce. Quindi sono contentissima che voi stiate seguendo questi webinar perché dal mio punto di vista questa è una competenza che dovrebbe essere internalizzata nelle amministrazioni piuttosto che essere delegata dei consulenti esterni. Ma nel mondo dei professionisti che si occupano di progettazione comunitaria sta prendendo piede una figura che ogni tanto mi si presenta e che non ho ancora ben collocato, il budgetista. Dice sì budgetista, colui che è specializzato esclusivamente sul far tornare i conti con Excel del bilancio di un progetto. Allora perché il budgetista mi lascia molto scettica e molto tiepida? Perché se la fattibilità come stiamo dicendo è uno dei parametri di valutazione non può esistere una costruzione di progetto in cui la definizione dei costi e dell'articolazione anche temporale dei costi non sia strettamente intimamente collegata con la progettazione di quali attività vuoi fare, di come le vuoi mettere in sequenza. Quindi ricordate che fattibilità è sempre valutata rispetto alla congruità di quello che volete fare con il budget che raccontate e anche con diciamo l'orizzonte temporale che avete davanti. Perché se vi ricordate la definizione che davamo la scorsa volta metteva a fuoco che i contributi a fondo perduto che sono quelli che ci interessano di più sono sempre contributi che vengono assegnati a progetti. Cos'è un progetto? Un progetto dicevamo la scorsa volta è un insieme di attività finalizzato al raggiungimento di un obiettivo specifico o scopo da raggiungere in un tempo dato e con un budget assegnato. Quindi tempo e budget sono sempre dei limiti di realtà, di realizzabilità che connotano qualunque tipo di progetto. L'altra E della parola perfetto che stiamo usando come acronimo per capire quali sono sempre queste caratteristiche che un buon progetto dovrebbe avere per interessare un terzo finanziatore pubblico è l'E di efficienza. Sono soldi di tutti, anche quelli dell'Europa, per cui non stare attenti a ottenere il massimo risultato con il minimo mezzo o a parità di risultato utilizzare il meno delle risorse, questa è la definizione di efficienza, ovviamente non ci sta bene. Quindi bisogna sempre sottolineare in un progetto che è anche costruito rispettando questo principio di efficienza. Le due T della parola perfetto poi stanno per la T di team. È sempre importante mettere in evidenza che le persone o le organizzazioni che lavorano insieme in un progetto siano ognuna in grado di mettere a fattor comune esperienze differenti, esperienze complementari, in maniera tale che la somma dei contributi di ciascuno sia maggiore della somma delle singole parti. Quindi anche in questo caso un suggerimento che vi do è non cercate partner identici uguali a voi, ma cercate sempre per costruire bene un progetto dei partner differenti, complementari. Voi siete un comune, cercate un'università, voi avete dentro gli ingegneri, trovate i creativi, trovate gli artisti, perché in questo senso è molto più facile riuscire a convincere che ognuno degli attori del progetto avrà comunque la possibilità di arricchire con un suo contributo differente da quello di altri quello che viene realizzato. La seconda T è quella di tecnologia. Benvenuti, come sapete, nell'era 4.0, questo significa che oramai qualunque progetto, seppure stessimo discutendo di un progetto che ha a che fare con l'inserimento lavorativo dei care leavers, quindi un progetto che guarda esclusivamente alle politiche sociali, c'è comunque bisogno di pensare a come utilizzare la tecnologia in maniera tale da far sì che in un progetto non ci sia soltanto il sito web come realizzazione tecnologica, quindi l'utilizzo dei social media, di tutto quello che sono piattaforme interattive per la costruzione partecipata delle policy, tutto quello che può essere il citizen censoring, quindi il cittadino come sensore vivente di come vengono realizzate le politiche, tutto questo è sempre oramai un aspetto ineliminabile da un progetto che voglia avere delle chance di essere finanziato. E poi l'ultima lettera della parola perfetto è che comunque dobbiamo cercare un qualcosa che rassicuri il terzo pagante sul fatto che non ce lo potevamo fare con i nostri soldi e che se stiamo chiedendo i soldi a lui c'è un perché. In italiano potremmo chiamare questa dimensione effetto incentivante, è sempre richiesto in attuazione del principio di sussidiarietà che ispira la distribuzione delle risorse europee, che le risorse europee non si sostituiscono a quello che puoi fare con le tue forze, ma in qualche modo ti aiutino a essere più forte o essere forte in maniera differente da come avresti potuto fare con i tuoi mezzi. E allora l'ultima lettera della parola perfetto è la O di ottimizzazione, c'è bisogno di raccontare e di spiegare che per il fatto di usare i fondi europei voi fate molto meglio quello che avreste fatto senza soldi europei, o perché grazie al partenariato riuscite a importare delle soluzioni, o perché grazie alle risorse comunitarie riuscite a fare prima e meglio quello che vorreste fare. Quindi ricordiamoci per oggi come messaggio che ancora non ha una tecnicalità, ma vuole fare un po' da cornice di buonsenso a tutto quello che adesso vedremo, che l'oggetto principale di questo webinar è come e cosa, come dobbiamo fare, cosa dobbiamo fare per costruire il progetto perfetto, perché il terzo pagante che usa fondi pubblici, se il progetto non è perfetto nelle dimensioni che ci stavamo dicendo, ha tutte le ragioni per non considerarlo e per non finanziarlo. E allora in questa prospettiva il messaggio vorrei, diciamo, agganciarlo a tre stimoli. Il primo, dobbiamo comunicare al mondo esterno che quello che interessa a noi, interessa anche al mondo esterno e gli interessa tantissimo. E allora usiamo un po' questo quadro di Magritte, se si ne fa un pip, quindi dobbiamo avere la pipa, che però simultaneamente è un quadro che rappresenta una pipa, quindi non è veramente una pipa, ma per noi è anche una pipa, cioè dobbiamo imparare un po' di sano storytelling, se volete, per raccontare con le parole giuste e sollecitando l'interesse di chi poi dovrà valutare la nostra proposta, il nostro progetto, quello che stiamo cercando di rappresentare come di fatto un'esigenza finanziaria, perché la scorsa volta ci dicevamo uno degli errori da non fare è pre-etichettare, quello per cui stiamo cercando i soldi. Seppure stessimo ricercando i soldi per efficientare in termini energetici la palestra comunale, questo significa che al di là del titolo efficientamento energetico e palestra, che mi dimentico, i soldi che sto cercando sono per coprire le spese di consulenza per chi mi fa il progetto esecutivo, pagare il rifiacimento degli impianti, comprare tot quantitativo di piastrelle o qualunque altro materiale per fare il cappotto termico all'edificio. Quindi quello che noi abbiamo nelle mani, ci dicevamo, è alla fine una lista della spesa. Allora quello che dobbiamo fare è oggi capire come vestirla questa lista della spesa facendo un po' di sano storytelling, perché se vi ricordate, se noi applichiamo il principio del diagrama, l'unica cosa su cui noi abbiamo davvero il controllo e la prospettiva, ridevamo un po' su questo passaggio la scorsa volta durante lo scorso webinar, comunque se guardiamo quello per cui stiamo cercando i soldi, utilizzando gli aspetti di finanziabilità, noi abbiamo sempre, e lo vedete nella terza colonna di questa scheda, una lista di alternative di finanziamento, una lista di programmi di finanziamento. In questo esercizio, in questa tabella, io ho ipotizzato, è veramente un esercizio costruito nell'ambito dei laboratori che facciamo con Urbact, voi sapete che io sono delle esperte del programma Urbact e sono anche siciliana, per cui casualmente, immaginiamo di dovere rifarci una palestra a Siracusa, allora se comunque dobbiamo rifarci la palestra a Siracusa, come vedete applicando il criterio degli aspetti di finanziabilità di cui parlavamo la scorsa volta, mi compare quasi una trentina di programmi di finanziamento che io potrei utilizzare, tutti questi 30 programmi di finanziamento sono programmi che sono legittimata a considerare, perché nel mio progetto c'è l'aspetto di finanziabilità che mi fa da connettore con quel programma di finanziamento, però quello che ho scritto nella terza colonna ha dentro Urban Innovative Action e ha dentro anche ad esempio Life o Erasmus, oppure i fondi per l'integrazione dei migranti. È ovvio che come racconterò la mia palestra a seconda di quale di questi tre programmi di finanziamento avrò considerato più conveniente per me, avrò considerato, ci dicevamo la scorsa volta che dobbiamo fare ranking delle varie alternative di finanziamento, dovrò raccontare a seconda del mio programma la palestra in maniera completamente differente. Un conto sarà la palestra raccontata per Urban Innovative Action, dove quindi posso ragionare di riduzione dell'inquinamento urbano, di efficientamento energetico. Un altro conto sarà la palestra, se io la devo raccontare per il programma Erasmus, la palestra diventerà una serie, una sorta di accademia hands on, cioè accademia pratica per tutti quelli che si devono occupare di rigenerazione di edifici pubblici e quindi sarà una sorta di università pratica di come si ristrutturano gli edifici. Una cosa completamente diversa sarà come racconterò sempre la stessa lista della spesa, costi per chi fa il progetto esecutivo, costi per il cappotto termico, costi per rifare gli impianti, nel caso in cui io voglia utilizzare questa opportunità rappresentata ad esempio dai fondi per l'integrazione dei migranti. Anche in questo caso sottolineerò come i lavori della palestra mi consentiranno ad esempio di mappare le abilità e le competenze dei migranti per poterli poi inserire in tutta una serie di lavori di utilità per la collettività, quindi potrebbe servirmi come se fosse una sorta di piattaforma per censire le competenze esistenti. Quello che ci dobbiamo ricordare è che qualunque sia il nostro progetto ora dobbiamo imparare a raccontarlo in tecnichese. Allora raccontare un progetto in europrogettichese vuol dire che dobbiamo incominciare a pensare al nostro progetto come work plan. Vi farò vedere tra un po' un esempio di progetto se volete spogliato da tutti i fronzoli e riportato all'ossatura di un work plan. La parola work plan in inglese significa piano di lavoro. Non è da confondere con la parola che troverete spesso se iniziate o continuate a guardare in maniera sistematica i programmi a gestione diretta, perché nei programmi a gestione diretta noi avremo i work program. La parola work program è sinonimo, viene da dire di programmo operativo, mentre work plan alla fine è il nostro progetto. Allora il nostro progetto è un work plan. Che significa? Dicevamo che da definizione ufficiale un progetto è un insieme di attività. Allora per raccontare le attività del nostro progetto l'unità minima è rappresentata dal cosiddetto task. Il task non è un'azione elementare, in inglese la parola task vuol dire compito e pensate che solitamente l'unità è come se fosse il mattoncino lego base con cui si costruiscono i progetti, questa unità base deve prevedere la collaborazione pratica di almeno due soggetti, di almeno due partner. Quindi il modo giusto per identificare i task è con la parola compito, i task sono già delle attività abbastanza complesse dove è possibile comunque far cooperare soggetti differenti. In questo senso quindi il task se volete è un'attività, un esempio di task potrebbe essere progetto esecutivo o studio di fattibilità ancora peggio che quindi arriva dall'analisi preliminare al progetto esecutivo, studio di fattibilità per la rigenerazione degli edifici dismessi. Allora questo è un task. Il secondo livello con cui si raccontano i progetti è dato dai pacchetti di lavoro, work package, se volete assomigliano un po' al concetto italiano di fasi, sono le macro fasi di un progetto. Il termine work package è spesso sintetizzato nelle due sigle iniziali quindi troverete molto spesso i WP. Perché ve le sto citando? Perché avrete visto che nelle slide a supporto dello scorso webinar, ma anche nei riferimenti che abbiamo condiviso come materiali a supporto di questo percorso di webinar, troverete molti riferimenti a progetti già finanziati dove ad esempio la descrizione di attività è pubblica, è presente su internet e troverete i WP, i work package. Allora WP sta per work package, pacchetto di lavoro o fasi. Normalmente un work package è un insieme di task, quindi è un gruppo di task. Uso la parola gruppo perché sapete che in sociologia diciamo si comincia a parlare di gruppo quando abbiamo almeno tre elementi, la coppia non è un gruppo. Quindi un work package è un gruppo di task, almeno tre task vuol dire da tre a cinque task, che ci portano messi insieme, impacchettati, ecco perché la parola package, immaginate di fascettare questi task tutti insieme, questi task tutti insieme ci portano all'aggiungimento di un risultato intermedio significativo del progetto, che è una sorta di pietra miliare per il nostro progetto, ecco perché la parola milestone, pietra miliare, che solitamente viene utilizzata. Allora io potrei avere un task che abbiamo detto è lo studio di fattibilità per la rigenerazione di spazi urbani dismessi, un secondo task che potrebbe essere creazione di un sistema di monitoraggio per tenere sotto controllo i piani di rigenerazione urbana e un terzo task che potrebbe essere l'esempio creazione di una cabina di regia che mette insieme soggetti pubblici e cittadini, questi tre task mi portano a una milestone che è uno studio di fattibilità concertato alla data X per recuperare tot edifici. Questa è una pietra miliare nel senso che mi segnale in maniera inquivocabile che i tre task li ho veramente fatti, li ho veramente realizzati per essere arrivata a questo punto intermedio e ho anche una fondamento, una pietra come se fosse una sorta di pietra angolare, di pietra d'appoggio su cui posso costruire un altro pezzo del progetto. Allora quando io ho più task e mi viene facile identificare una milestone ho un work package che nel nostro caso potrebbe essere intitolato avvio del piano di rigenerazione urbana per capirci. Più work package messi insieme costituiscono un work plan. Allora ogni task siccome stiamo usando soldi di un terzo deve essere assolutamente sempre rendicontabile, quindi ogni task deve produrre un po' come se fossero le briciole nella favola di Pollicino dei deliverable, delle realizzazioni pratiche. Ci deve essere sempre una traccia fisica e verificabile da un terzo del fatto che le attività del task sono davvero state realizzate, quindi se ad esempio costituisco, abbiamo detto un task è costituzione della cabina di regia partecipata, vuol dire che dovrò avere i verbali delle riunioni, dovrò avere la lista dei partecipanti. Allora ogni task ha sempre dei deliverable, dei rilasci, delle evidenze fisiche che devo utilizzare proprio per tracciare l'avvenuta realizzazione delle attività. Ma tra tutti questi deliverable ce ne sono alcuni che cominciano ad avere senso per il mondo esterno, a livello di work package, quindi non è necessario che questa cosa avvenga a livello di singolo task, a livello di work package io posso avere degli output, ad esempio lo studio di fattibilità può essere un deliverable ovviamente, che è legato a quello che vi ho menzionato come primo task, ma di sicuro ha rilievo anche per il mondo esterno, potrebbe essere utilizzato da un'altra città che lo prende come modello di riferimento. Allora in questo caso ho un deliverable che è anche un output, è qualcosa che butto fuori dal mio progetto e comincio a interessare il mondo esterno. A livello di progetto nel suo complesso di work plan, vi dicevo che quello che mi importa non sono tanto gli output, ma sono gli outcome. Cosa ne viene fuori? Qual è il beneficio realmente creato? Per usare un'espressione che piace molto agli uomini di finanza, qual è il value for money che resta da questo investimento? Anche un ente pubblico è un investitore razionale, si chiede qual è il ritorno dell'investimento che ha fatto, qual è il valore creato e allora chi ho beneficiato potrei avere beneficiato? Gli architetti e gli ingegneri, potrei avere beneficiato i cittadini che si interessano di questo tipo di attività. Quindi quello che mi interessa è quali sono gli outcome. Gli outcome hanno una caratteristica, sono comunque responsabilità diretta di chi fa un progetto e rispetto agli outcome, quello che mi importa è sottolinearvi che al più tardi devono comunque essere realizzati, devono essere certificati alla data di chiusura del progetto. Quindi immaginatevi veramente come una sorta di obbligo contrattuale. Allora se io dico che aumenterò del 3% il fatturato delle imprese e penso che questo sia un outcome, state attenti che alla fine qualcuno vi chiederà conto. Una cosa completamente diversa dagli outcome sono i cosiddetti impatti. Gli impatti sono dei risultati di livello più macro, sempre in termini di beneficio, che si realizzeranno nel medio e lungo termine. Allora quando si parla di medio e lungo termine si intende da 3 a 5 anni dopo la chiusura del progetto, da 3 a 5 anni dopo la chiusura del progetto può succedere di tutto, quindi non è un vostro onere contrattuale, la realizzazione degli impatti. Ma gli impatti solitamente vengono definiti dal programma e a monte dalla politica, sono qualcosa a cui voi potrete concorrere, compartecipare con gli outcome. Allora costruire bene un progetto significa che noi adesso dobbiamo capire come raccontare quello che ci serve e alla fine a noi cosa servono? A noi servono mezzi, perché se parliamo del progetto esecutivo vuol dire che mi serve l'esperto, il consulente che mi faccia il progetto esecutivo, quindi alla fine sto cercando soldi per dei mezzi. Allora noi siamo quelli che cercano euro per coprirci dei mezzi, dobbiamo riuscire a collegare i mezzi che a noi interessano a delle attività e queste attività devono essere i task che però devono essere ordinati in qualche modo, secondo una sequenza logica, una coerenza logica e devono essere quindi aggregati in work package, ma i task, le attività di un progetto, task o work package devono comunque rispettare due condizioni, produrre utilità e quindi devono di sicuro produrre un'utilità pratica, vuol dire generare output e devono produrre, chiamiamolo un'utilità strategica, quindi essere davvero in grado di produrre gli outcome e gli impact che non definiamo noi, ma che costruiremo a seconda di qual è il programma, di quali sono le esigenze del programma di finanziamento. In tutto questo il secondo elemento è che quello che raccontiamo deve essere controllato da un terzo che non è a fianco nostro nella realizzazione quotidiana delle attività, ma che si occuperà di verificare se abbiamo fatto veramente quello che avevamo promesso di fare. Ecco perché l'altra componente importante è questa componente chiamiamola di tracciabilità, è importante che ogni task, ogni task abbia comunque dei deliverables. Quello che vedete in questa slide è quindi una sorta di alfabeto base, di glossario comune che adesso incominciamo a utilizzare perché se vogliamo, come ci dicevamo, davvero portarci a casa le risorse dell'Unione Europea dobbiamo incominciare a pensare in chiave progettuale quello che a noi interessa e questo vale anche per quelli che sono servizi a carattere continuativo che il mio comune ha bisogno di garantire la collettività. Cioè quello che vorrei comunicarvi è proprio questo, immaginate che un comune è comunque un ente che ha delle esigenze finanziarie continuate nel tempo, deve soddisfare dei bisogni che sono a durata tendenzialmente indefinita. Se io mi occupo di pulizia e manutenzione delle strade, questo ovviamente non è una cosa che dura due anni, non è una cosa che dura tre anni, ma sarà un impegno che devo riuscire a presidiare con continuità e ne siamo in un contesto in cui la dinamica della finanza pubblica è oramai a livello tale che dobbiamo cominciare a procurarci delle risorse che non sono legate più ai trasferimenti, che non possiamo più coprire semplicemente aumentando la tassazione o le tariffe dei servizi pubblici, dobbiamo incominciare anche a attirare queste risorse esterne per coprire, scaricare se volete i costi, anche le attività continuative del mio comune. In questo senso quello che a noi serve è come se fosse una retta, i progetti su cui possiamo creare una convergenza di risorse comunitarie è come se fossero dei segmenti che messi uno in fila all'altro alla fine mi coprono la retta. Allora noi dobbiamo imparare a raccontare in chiave progettuale anche quelle che sono delle esigenze di finanziamento ordinarie e continuative del mio le parole con cui possiamo giocare sono quelle che trovate in questa slide, quindi un progetto è un work plan, un work plan vuol dire che io all'inizio di tutto ho una lista di task, questa lista di task deve essere organizzata in work package, i work package devono comunque avere dei segnalatori luminosi obbligatori, i deliverable e poi delle milestone, delle pietre miliari che mi segnalano il raggiungimento di risultati intermedi, perché soltanto così io riesco a monitorare l'andamento e la direzione della marcia per essere sicuro che quello che sto facendo mi consente di produrre gli output, beni o servizi, realizzazioni concrete su cui io spendo i soldi e che mi consentono di produrre questi output in maniera tale da essere sicuro che siano utili e che quindi mi producano gli outcome e gli impact che sono desiderati in base alle specifiche che non definisco io, ma prendo dalla policy e dal programma. E allora il punto di partenza se volete è quindi imparare a raccontare quello che veramente ci serve in maniera molto schematica con un concept note, come vedete in questa slide un concept note non è altro che una rappresentazione di task organizzati in work package. tutto quello che mi può servire, questo è un progetto per lo sviluppo di nuove forme di turismo culturale per la valorizzazione delle aree interne, questo è questo progetto change che vedete menzionato, alla fine è un progetto che viene raccontato senza tante parole in mezza paginetta con la struttura di un work plan, questo è il nostro punto di partenza. Mi viene a dire che è un punto di partenza a cui arriviamo, perdonate il besticcio di parole, quando però ci siamo già letti la struttura di un programma operativo, quindi quando abbiamo già visto che un programma operativo è disposto comunque a pagarmi dei laboratori di progettazione partecipata, è disposto a pagarmi delle strategie di promo commercializzazione o di marketing territoriale per il mio territorio. Quindi il concept note è come se fosse un primo schizzo a mano libera, essendosi però letti a grandi linee, quello che è un programma di finanziamento è disposto a finanziare. Ritornando a quello che ci dicevamo la scorsa volta, immaginiamo di utilizzare uno qualunque dei siti web di secondo livello che mi fa pubblicità, mi fa early warning sui bandi aperti, trovo una scheda sintetica che mi mette a fuoco che cose i vari programmi possono finanziare e sulla base di quello sono pronta a strutturare un concept note. Questo concept note deve essere utilizzato facendo partire due tipi di percorsi. Un primo percorso io lo chiamerei di comunicazione interna, sarà capitato anche a voi che vi siate trovati a dovervi adeguare al fatto che non siamo dittatori assoluti, dobbiamo sempre un po' condividere le nostre decisioni e a livello di ente e anche con quelli che potrebbero essere dei stakeholder, dei portatori di interesse. Il concept note, una paginetta, significa avere uno strumento che non soltanto dice al mio mondo interno, guarda si sta per aprire la call su Central Europe, ci ragioniamo? Ma porta un po' avanti e in qualche modo semplifica i tempi del dibattito perché comunque riesce a accelerare il confronto dicendo guarda si apre la call di Central Europe, quello che potremmo fare è veramente questa cosa qui, quindi se volete è come se imbrigliasse un po' il confronto e quindi in un certo senso velocizzasse poi la capacità di reazione e quindi consente di non perdere tempo quando la tempistica non è infinita. L'altra cosa importante è che il concept note mi serve per iniziare sin da subito un percorso di comunicazione esterna perché dicevamo che molto spesso se guardiamo alla fonte più pregiata di finanziamenti comunitari che la scorsa volta se vi ricordate classificavamo fondamentalmente in due grandi famiglie di programmi. Per i fondi strutturali il messaggio della scorsa volta era quello di non considerare in prima battuta mai i fondi strutturali a regia regionale. Perché? Perché quando dobbiamo ragionare di un accesso sistematico ai programmi di finanziamento e quindi una modalità di approccio queste risorse finanziarie che includa la possibilità di fallimento io devo costruire sin da subito un progetto che possa con facilità essere riciclato sempre in senso lecito in n programmi di finanziamento e allora se io mi costruisco il progetto guardando alla programmazione della regione non è facilissimo fare evolvere un progetto che viene costruito già su scala estremamente locale con delle dinamiche che sono comunque delle dinamiche di bilanciamento territoriale nella ripartizione delle risorse che una regione giustamente in maniera legittima segue nel attuare il proprio programma operativo ma ho bisogno di una prima bozza che mi consenta con facilità di ad esempio presentare quel progetto anche su MED, su Life, su Horizon 2020. Allora il progetto che io costruisco sulla scala regionale questo potenziale non ce l'ha ma se io inizio costruendo un progetto ad esempio sul programma MED o ad esempio sul programma Central Europe io ho già una struttura progettuale che ha una visione sovralocale una anche dimensione qualitativa che mi consente di alzare un po' l'asticella su cosa racconto nel mio progetto per cui mi trovo un semi lavorato che appena esce appena si apre il bando sul POR io posso tranquillamente riutilizzare ma che è già pronto anche per essere scalato verso l'alto ed essere utilizzato per un programma Life, un programma Horizon quindi per i programmi a gestione diretta. Allora la scorsa volta se vi ricordate abbiamo detto che fondamentalmente tra tutti i programmi per incominciare a fare questo sforzo di progettazione mi interessa concentrarmi sui programmi freccia rossa, quei programmi su cui vale comunque la pena salire come se fossero un treno ad alta velocità che ci porta subito a destinazione e dicevamo che per classificare questi programmi che davvero ci piacciono i parametri che dobbiamo considerare sono due, la convenienza finanziaria delle linee di finanziamento per cui cercheremo di concentrarci su programmi che possibilmente ci coprono il 100% dei costi e che non ci chiedono un cofinanziamento e la seconda cosa che ci interessa è che questi programmi abbiano la possibilità di coprirci eventualmente anche costi e spese per infrastrutture oltre che per attrezzature e tutto il resto che ci può servire. Questi programmi che abbiamo chiamato freccia rossa hanno anche un'altra caratteristica che ce li rende intriganti, qualunque sia il tema per cui stiamo cercando risorse finanziarie nei programmi freccia rossa noi comunque abbiamo la possibilità di pagarci politiche sociali, politiche per la cultura, politiche per i trasporti, quindi sono solitamente programmi multitematici. Ebbene tra i programmi freccia rossa la scorsa volta ne avevamo inseriti di due grandi categorie, avevamo inserito i programmi di cooperazione territoriale europea, cioè quei programmi che utilizzano il FEESG, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, lo utilizzano per pagare anche infrastrutture, ma sono pensati per rafforzare o la cooperazione transfrontaliera, quindi tra aree confinanti, o una cooperazione a livello transnazionale, quindi qui è l'Europa che identifica delle macro regioni, ad esempio la macro regione adriatico ionica, la macro regione alpina e favorisce gli scambi e progetti condivisi tra attori che rappresentano diversi paesi che sono inclusi in questa macro area di cooperazione, oppure la terza famiglia è data dai programmi di cooperazione transregionale. Altro grosso pezzo dentro i programmi freccia rossa sono quei programmi a gestione diretta dell'Unione Europea che ci consentono anche di coprirci le infrastrutture come costo, ad esempio Horizon, il programma Life, certi pezzi del programma Erasmus+. Ora, questi programmi hanno in comune un elemento, richiedono comunque un partenariato con altri soggetti e rispetto al partenariato con altri soggetti, quindi io ho bisogno di iniziare sin da subito questa ricerca partner. Un conto è scrivere ai vari partner una mail generica, vorresti presentare per cortesia con me il progetto sul programma Life, un conto è anche in questo caso accelerare il dialogo, accelerare una costruzione partecipata dei dettagli operativi del progetto usando il concept note come strumento di comunicazione, che ancora non è il progetto, ancora non è neanche la struttura definitiva del nostro progetto, è soltanto una forma schematica che io vi consiglio di imparare a usare, nei materiali che caricheremo a supporto di questo webinar troverete diversi esempi in Word di concept note, ve ricarichiamo volutamente in Word perché voi possiate fare l'esercizio di copiare con intelligenza e adattare lo strumento agli n casi che a voi interessano, però è una sorta di allenamento che è necessario fare per ricordarsi che se soldi esistono, esistono soldi per progetti, questi progetti devono essere comunque raccontati utilizzando un linguaggio tecnico che è quello che identifica il progetto come un work plan, dobbiamo imparare a vestire la nostra lista della spesa in maniera tale da avere un progetto, una proposal, il punto di partenza è il concept note, quindi troverete a supporto dell'esercizio di questo webinar una sorta di esercizio, dei concept note che potete copiare, trasformare come meglio credete, ma anche degli input su bandi che su programmi freccia rossa si stanno aprendo e che vi consentono quindi se avete voglia di farlo davvero l'esercizio, vestire da concept note per quei programmi delle esigenze finanziarie che avete realmente all'interno del vostro comune. Allora rispetto a questo mi viene da dire che dobbiamo condividere un po' una sorta di scorciatoia su come organizzare bene un work plan e come fare, in questo caso io anticipo un po' una obiezione che molto spesso sento, a rendere europea una esigenza di copertura delle buche della strada nella strada principale del mio comune. Allora la chiave di volta è la struttura a tempio, ogni progetto ha una struttura abbastanza codificata se volete, i work plan non sono mai in numero infinito, perché non sono mai in numero infinito? Perché ci dicevamo che nella nostra definizione di progetto un progetto è sempre un qualcosa di limitato, abbiamo un limite di tempo e un limite di risorse finanziarie, quindi non possiamo identificare dentro un progetto 100 pacchetti di lavoro, non possiamo dividere all'infinito qualcosa che è già finito di suo, quindi un progetto per quanto sia cospicuo il livello di finanziamenti che attrae e che vuole mettere in gioco ha sempre massimo 10 work package, secondo me con 7 uno riesce a cavarsela qualunque sia il tipo di programma a cui vuole fare riferimento. E per raccontarvi questo tempio ho bisogno di condividere con voi un altro schema base che è quello del PCM, Project Cycle Management. Tra i materiali di approfondimento di questo webinar troverete anche la guida ufficiale che la Commissione Europea ha predisposto a come utilizzare il Project Cycle Management. È un volume in italiano che quindi potete consultare tutti con estrema agilità, che ha moltissimi esempi, che mette insieme tutti gli strumenti del PCM. Quello che mi serve è condividere con voi i messaggi in codice, che anche in quella guida non troverete esplicitati così come provo adesso a esplicitarveli io. La prima cosa per capire il PCM e quindi poi capire bene perché quella struttura tempio a cui torneremo, la prima cosa da capire è che il PCM in realtà non è un cerchio, anche se si chiama Project Cycle Management, se guardate bene questa figura, quella che trovate in questa slide è l'immagine ufficiale del PCM, è un esagono. Quindi ha una sua simmetria, c'è un sopra e sotto, corrispondente, e c'è un destra e sinistra, corrispondente. Perché questo è importante? Perché questo è un modello di origine anglosassone. Gli anglosassoni sulla simmetria sono sempre un po' rigidi, un po' precisi, quindi non è assolutamente casuale questa esistenza di simmetria. E allora partiamo dal basso, dalla carazzella che vedete in questa slide illustrata in azzurro. Chi è che finanzia? La Commissione Europea. Allora, sopra e sotto, quello che bisogna fare per impostare bene il ciclo di gestione del progetto, questo significa PCM, Project Cycle Management, che è quello che il terzo pagante, in inglese si chiama donor, quindi la Commissione Europea, ma vale anche per la Banca Mondiale, vale anche per una fondazione bancaria. Allora, quello che è il metodo che solitamente viene suggerito per costruire delle proposte di progetto, proposal, robuste, rispetto alla situazione in cui abbiamo un terzo pagante che deve decidere se fare lui, se darci o no i suoi soldi, è avere chiaro che nel PCM, sopra e sotto, fa chi paga. Quindi la programmazione che trovate in alto in questo esagono è che è il primo step che dovrebbe essere messo in campo quando voglio costruire un progetto, non significa che dobbiamo avere noi un programma strategico, significa che dobbiamo andarci a studiare i programmi, dobbiamo andarci a studiare le politiche. È la programmazione strategica di chi paga quella che dobbiamo leggere. E allora, vi dicevo che il concept note solitamente si scrive quando io, almeno una scheda sintetica, che mi racconta che cosa fa il programma, per strutturare un'articolazione di work package che abbia delle assonanze con quello che fa il programma, io lo faccio. Quindi la programmazione significa studiati il programma. In questo schema che voi vedete, vedete che da questa fase di programmazione, destra e sinistra fa chi paga, chi riceve i soldi. Quindi dobbiamo fare noi. Allora, trovate tre caselle più chiare dalla programmazione alla formulazione. Questo è quello che accade quando ancora il mio progetto non è un progetto, ma è diciamo in fase di gestazione. Ed è quella che è la vera e propria fase di costruzione di una proposta di finanziamento. Allora, secondo il PCM, quando costruisci la tua proposta di progetto, quando vuoi presentarmi una richiesta di fondi, i tre passaggi preliminari che devi fare sono programmazioni di azione e formulazione. Quello che per oggi mi interessa sottolinearvi, e poi ci ritorneremo anche nel webinar di domani, quindi vi rinnovo l'appuntamento domani a mezzogiorno, abbiamo un'altra ora e mezza da passare insieme, è che il formulario, quindi notate che la parola formulario assomiglia a formulazione, il formulario non è la prima cosa, che si inizia a costruire quando voglio fare una richiesta di finanziamento, ma nell'approccio del PCM è un messaggio fortissimo, prima di scrivere anche solo una parola nel formulario, che mi viene da dire come se fosse la fase finale della fase di formulazione, è un passaggio che richiede che A, ti studi i programmi, perché se il tuo progetto non è pertinente, richiamando il concetto di progetto perfetto, che evocavamo all'inizio, io non ti pago, non ti do i miei soldi. La seconda cosa che bisogna fare è mettere a fuoco bene la nostra idea, il concept note non è ancora un'idea di progetto, è un primo schizzo a mano libera, quello schizzo a mano libera, quel concept note io lo devo prendere e rifinire, non tanto per inventarmi un'idea. La fase di ideazione non vuol dire invenzione, o se volete vuol dire invenzione soltanto alla latina, invenio, trovo dentro qualcosa che già c'è, qualcosa di nuovo, ma quello che qui bisogna fare è fare un'analisi dettagliata di qual è il contesto politico e territoriale del mio progetto per identificare all'interno del programma qual è il pezzo di quel programma a cui io darò risposta con il mio progetto, tra un po' su questo ci torniamo, ma la cosa importante è che voi abbiate presente che prima di iniziare a scrivere il metodo suggerito dall'Unione Europea è quello di approfondire l'analisi di quali sono i problemi e di qual è la vostra capacità di risposta ai problemi, avendo sempre presente che con uno progetto non posso fare tutto, non posso risolvere tutti i problemi del mondo e quindi una cosa importante è fissare bene il raggio d'azione del mio progetto. Lo sapete come si dice obiettivo specifico in inglese, in neuroprogettichese? La parola che si usa è scope, lo sapete come, che cosa significa veramente scope in inglese? Vi ricordate la slide da cui siamo partiti oggi, quella del mirino? Allora lo scope è il mirino del cecchino. Scope in inglese vuol dire ampiezza e allora uno degli esercizi che il PCM induce a fare quando si deve fare ideazione o identificazione è fare scoping, cioè decidere quali sono le strategie che tieni dentro il progetto, quali sono le attività simili che tieni dentro il progetto e che cosa invece pur essendo altamente utile, pur avendo molto senso per risolvere i problemi che il programma vorrebbe risolvere, tu non puoi permetterti di tenere dentro al progetto perché semplicemente non hai tempo e non hai soldi per fare tutto. Allora la fase di ideazione è una grande fase di analisi supportata da tutta una serie di strumenti che il PCM mette a disposizione, in questa fase di analisi lo scopo vero è tirare fuori l'ossatura definitiva e non più a mano libera di quello che sarà il mio progetto, quindi tiro fuori l'idea del mio progetto per il programma. Questa idea è nella fase di formulazione pianificata in tutti i suoi dettagli e quindi anche in questo caso prima ancora di scrivere una parola nel formulario, il PCM mette a disposizione di chi vuole costruire progetti tutta una serie di strumenti di pianificazione, dei dettagli con cui svolgerai le attività che hai identificato nella fase precedente, quindi ad esempio in questa cassetta degli attrezzi troverete il Gantt o cronoprogramma, troverete la matrice delle responsabilità, troverete la possibilità di utilizzare il quadro logico del progetto per costruire non soltanto una certezza nella logica di intervento che è quella che collega le attività, i risultati all'obiettivo specifico e quindi all'obiettivo generale del programma, ma ad esempio verrete guidati anche a costruire il sistema di indicatori del vostro progetto, verrete guidati a costruire anche il piano di gestione dei rischi del vostro progetto. Allora per adesso fermiamoci qui in che senso? Che ancora dobbiamo ritornare alla struttura a tempio, quindi quello che vorrei nuovamente sottolinearvi è che per adesso da questo schema del PCM escono fuori due messaggi molto forti. La prima, se vuoi presentarmi a un progetto ti prego studiati i miei programmi. La seconda, che la costruzione di una proposal non è assolutamente una scrittura di getto, perché da questo modello del PCM quello che esce fuori è che tu arrivi al formulario soltanto se gestisci almeno due fasi che sono molto ben articolate. Quando tu mi presenti il formulario, se il formulario è scritto bene, c'è un elemento di snodo che nuovamente non fa chi presenta la richiesta di finanziamento, ma fa chi ha i soldi, che è la fase di finanziamento. In questa fase il progetto cambia pelle, smette di essere una proposal e diventa un vero e proprio project e infatti se guardate, nella parte sinistra dello schermo le caselle che anche in questo caso segnalano attività che vanno fatte da chi si prende i soldi sono di colore differente, proprio perché qui la natura dell'oggetto che siamo obbligati a gestire è differente, non è più una proposal e un project e quindi abbiamo la fase di implementazione e valutazione. Tenete in mente che stiamo ancora ragionando, sto condividendo con voi il codice di base che giustifica come possiamo strutturare qualunque progetto con un modello di work plan che sia robusto, resistente rispetto a quello che cerca chi ha i soldi per potermi pagare. Allora quello che vi voglio far notare è che in questo modellino basato su questa simmetria molto forte, questo modellino di origine anglosassone, noterete che le frecce cambiano e colore e formato. Anche in questo caso se gli inglesi, gli anglosassoni, non solo gli inglesi, cambiano qualcosa vuol dire che stanno significando qualcosa di diverso. E allora che cosa esce fuori da questo schema? Da questo schema esce fuori che chi realizza un progetto realizza un qualcosa che è sicuramente composto da un blocco che possiamo chiamare implementazione. Ma l'altro messaggio molto forte del PCM è che chi si prende i soldi è obbligato a fare valutazione. La valutazione che trovate qua non è una eterovalutazione. La valutazione dei terzi sul nostro progetto, quando ancora ad esempio una proposta di finanziamento, è quello che avviene nella fase di finanziamento, nella fase di PCM. Qui la valutazione è una valutazione che deve fare chi riceve i soldi per capire se le attività che ha fatto sono andate bene e sono andate male e che uso deve essere fatto e deve essere sempre un pezzo di attività che c'è nel progetto finanziato di questa valutazione sulle attività che io ho portato avanti. L'utilizzo che deve essere fatto dell'esito di questa valutazione è duplice. Da una parte, guardate la freccia tratteggiata che collega valutazione e programmazione, tocca a me che sto prendendo i soldi utilizzare le informazioni su qualitative, su come è andato il mio progetto per alimentare la riformulazione dei programmi, la ridefinizione dei programmi. Quindi devo comunque sempre usare parte dei soldi e del tempo del progetto per costruire dei feedback qualificati su come quello che io ho realizzato nel particolare del mio progetto possa essere generalizzato. La seconda linea che vedete tratteggiata e che parte sempre dalla valutazione, quindi è sempre un'attività che tocca a chi si prende i soldi di un progetto e che deve utilizzare quello che esce fuori come esito del progetto per alimentare la creazione di nuove idee, per supportare una capitalizzazione, un riuso di quello che comunque nel progetto viene finanziato. Avete presente quindi questa immagine? Allora quello che è importante è che il progetto che dovremmo andare a costruire per essere finanziato davvero dovrà avere fondamentalmente almeno quattro blocchi che potremmo considerare una sorta di minimo sindacale. Il progetto dovrà avere una parte di implementazione, il progetto dovrà sicuramente avere una parte di valutazione che serve per terzo blocco, ispirare il policy maker comunitario per migliorare la policy, aggiornare la policy, ma anche quarto blocco obbligatorio toccherà a noi fare informazione e comunicazione di quello che stiamo facendo per rendere pubblico tutto quello che accade nel nostro progetto in maniera tale da poter stimolare la creazione di nuove idee. Se quindi torniamo al nostro modello a tempio che avevamo lasciato, guardate come torna quello che vi ho fatto vedere con una struttura di progetto standard, chiamiamola un po' standard. Noi dobbiamo sempre avere da una parte un pacchetto di attività dedicato al coordinamento e alla gestione del progetto e questo pacchetto di attività immaginiamo come se sia una sorta di fondamenta su cui dobbiamo costruire il nostro progetto. Il terzo pagante ci dà i soldi ma non entra nella gestione quotidiana, quindi vuole essere rassicurato sul fatto che siamo assolutamente in grado di gestire il progetto. Abbiamo detto poi che tocca sempre a noi che ci portiamo i soldi a casa dall'Europa, investire su attività di comunicazione, informazione, disseminazione e c'è una terza, una quarta parola che qui trovate evocata nella lettera E che è la exploitation, toccherà sempre a noi suggerire a terzi come poter riciclare quello che ci è stato pagato. Allora volevo chiarirvi questi quattro concetti sempre tenendo conto che un'altra caratteristica degli anglosassoni è che non amano assolutamente i sinonimi. Quello che a me una volta è capitato è di avere un progetto bocciato perché in una parte del formulario avevo usato l'espressione set of instruments e in un'altra parte del formulario avevo richiamato quello che era il set of instruments chiamandolo toolkit. Allora nella forma mentis che nel mondo dell'europrogettazione ha vinto che è la forma mentis anglosassone se cambi parola cambia anche oggetto. E allora quando in un progetto l'idea della politica comunitaria è che tu finanzi information, communication, dissemination and exploitation vuol dire che non stai pagando cose identiche, stai pagando quattro attività differenti e dovrebbero tutte essere incluse nelle attività di un progetto che usa soldi comunitari. Informazione chiamiamola così è contenuto generale a pubblico generale, quindi ad esempio il sito web di progetto, il depliantino che facciamo, la conferenza di apertura, la conferenza finale di un progetto sono ovviamente informazione, contenuto generale a pubblico generale. Una cosa completamente diversa nella terminologia comunitaria è la comunicazione. La comunicazione vuol dire contenuto specifico a target specifico, quindi ad esempio tu vuoi parlare delle metodologie con cui fare uno studio di fattibilità e ne parli con il consiglio nazionale degli ingegneri. Allora questa è comunicazione, non stai parlando di tutto a tutto il mondo, ma è un contenuto specifico ovviamente afferente all'attività del progetto che sviluppi con un target, con un'audience specifica. Terza attività, completamente diversa da queste due, è la disseminazione. Allora la disseminazione per l'Europa significa pagare tutto quello che funziona da cassa di risonanza per il riutilizzo di output. Quindi se non hai un output non puoi avere disseminazione, non ci può essere un'allocazione di budget al mese 1 per attività di disseminazione, perché ovviamente al mese 1 di un progetto tu ancora non hai realizzato niente. Devi prima averlo il report, devi prima averlo lo studio di fattibilità, devi prima averlo il database interattivo, devi prima averla la piscina comunale recuperata secondo criteri di efficienza energetica, per poter poi costruire degli eventi o delle attività di comunicazione mirata che servono proprio a fare pubblicità, promozione, per favorire il riuso, la copiatura intelligente di quel output anche in altri contesti. Questo è quello che viene chiamato disseminazione. In questo ciclo di programmazione nel 2014-2020 una nuova parola che ha conquistato gli onori della cronaca è l'exploitation. L'exploitation è fare brutalmente marketing, cioè promuovere quello che tu hai realizzato con soldi dell'Unione Europea perché poi possa essere sfruttato anche in chiave business, quindi perché poi ci possa essere qualcuno che è disposto comunque a pagare per poter replicare quello che tu hai fatto ovviamente a progetto finito. Il concetto di exploitation è stato codificato all'interno del programma Horizon 2020 e da lì ha cominciato poi a espandersi un po' in tutti gli altri programmi. Allora mi viene da dire che nel nostro tempio qualunque sia il programma abbiamo sempre due attività che sono due blocchi fondanti, il WP1 Project Management e il WP2 Informazione, Comunicazione, Disseminazione ed Exploitation. Un formulario, e su questo torneremo domani, vedremo che i formulari sono sempre molto sintetici. È vero che uno degli elementi importanti per farsi finanziare un progetto è la coerenza di quello che mi racconti rispetto al contesto e che quindi in un formulario c'è sempre un momento di analisi di quello che è il quadro in cui il progetto si inserisce, si chiama in inglese Project Background, che in alcuni formulari è proprio il titolo di una sezione del formulario, in altri formulari di programmi a gestione diretta viene chiamato State of the Art, ma c'è sempre quest'idea che per pagarti il progetto, alla latina vuol dire mutare in avanti, arrivare a B, io devo sempre avere consapevolezza di qual è l'A da cui sto partendo, per poter giudicare utile o meno quello che mi stai proponendo. Allora, nei progetti c'è sempre una analisi, ma è sempre un'analisi molto sintetica, molto veloce, ecco perché è buona regola che qualunque progetto abbia sempre una, chiamiamolo VP3, che sia dedicato a fare analisi, raccogliere buone pratiche, fare un'analisi della normativa esistente, fare casualmente degli studi di fattibilità per capire come si può intervenire. Allora, una soluzione che è veramente fungibile in N programmi è pensare sempre dentro a un progetto, un VP3, che utilizzo per pagarmi tutto quello che è analisi, studi, che poi mi porta alla condivisione di linee di azione. E quindi, ad esempio, se mi devo pagare un progetto esecutivo per un'opera pubblica, lo metterò in un VP3, perché comunque ho come milestone poi il progetto esecutivo che mi consente di passare a quelli che sono dei VP, e chiamiamole le colonne del tempio, che vengono costruite sulle milestone prodotte dal VP3 e che sono le vere e proprie attività caratterizzanti il mio progetto. Quindi sono, per ritornare al PCM che abbiamo visto, le colonne sono la vera e propria implementation. Ora, immaginiamo di avere dei partner. Qual è un modo per far funzionare il progetto senza litigare troppo con i partner? Un modo che sicuramente funziona è quello di specializzare i ruoli dei partner in maniera tale che ognuno abbia la sua colonna, di cui fai leader. Per cui, anche in questo caso vi rinnovo, e lo vedremo meglio nel webinar di domani, l'idea di provare a blindare, a mettere in sicurezza quelle attività che si tirano dietro i mezzi che a voi interessano veramente, cercando di crearvi una sorta di arena in cui potete agire con relativa autonomia. Un'arena su cui agire in relativa autonomia è il VP, di cui potete diventare VP leader. Ovviamente questo significa che per poi fare un progetto competitivo, un progetto bilanciato, mi devo cercare un partner che abbia interessi completamente differenti da quelli pratici che ho io, che ad esempio sia più interessato a pagarsi studi, a pagarsi ricerche, che incardino come VP leader di un VP completamente differente. Quindi quello che caratterizza il cuore del progetto sono le colonne del nostro tempio, sono quelle che coincidono sempre per creare questa correlazione con il PCM, coincidono con la fase di implementazione, ma dicevamo noi dobbiamo fare valutazione e questa valutazione la dobbiamo fare non soltanto per comunicare, quindi ci saranno delle attività di disseminazione dentro il VP2, ma dobbiamo fare anche per dare segnali di ritorno che riorientino, reorientino la policy da cui discende il programma. Allora c'è un'espressione molto efficace in inglese, che è questa espressione mainstreaming che trovate scritta nella slide, nel frontone del nostro tempio, è una sorta proprio di elemento conclusivo che tiene insieme le colonne e che giustifica le fondamenta. Allora il nostro progetto immaginatelo come un ruscelletto, minimo nell'economia complessiva delle problematiche comunitarie ed essendo un ruscelletto minimo lo usiamo proprio come campo pratica, come campo di sperimentazione, però stiamo usando soldi dell'Europa. E allora la logica del mainstreaming, stream sapete che significa corrente in inglese, come facciamo a trasformare questo nostro ruscelletto nel fiume, nella corrente principale, cioè quali sono gli elementi che hanno funzionato su piccola scala nel nostro progetto che potrebbero essere generalizzati, stabilizzati nel quadro di una politica europea per riorientarla in chiave costruttiva. Allora quindi diciamo il messaggio di oggi fino adesso si riduce a tre elementi che abbiamo diciamo usato per arricchire il contenuto del webinar 1 che abbiamo fatto all'inizio di questa settimana e sono il concetto di progetto perfetto che sottolinea l'idea che il vostro progetto se non è pertinente non lo paga nessuno perché loro hanno dei vincoli nell'utilizzo delle risorse. Abbiamo visto il PCM come ciclo metodologico prima ancora che logico che la commissione suggerisce per costruire in maniera robusta i progetti e fino adesso abbiamo visto che comunque un progetto è un work plan, dobbiamo quindi imparare a raccontare sotto forma di work package, prima con concept note, ma ricordandoci che c'è una diciamo una sorta di modello che funziona sempre, che è questa struttura a tempio che tiene tutto insieme perché come avete visto l'abbiamo derivata dall'approccio metodologico del PCM, quindi il terzo messaggio da ricordarsi è che un modo facile per costruire il work plan di qualunque progetto, qualunque sia il programma è ricordarsi di questa struttura a tempio. Ora abbiamo evocato in continuazione sia nel primo webinar sia in questo i programmi, ma cosa sono i programmi? Allora i programmi in realtà sono sempre delle strategie che vengono organizzate in maniera tale che un obiettivo generale del programma, ad esempio rafforzare la cooperazione dell'arco alpino, questo è un obiettivo generale di programma, venga dettagliato in sottopriorità. Questa è sottopriorità, è come se fossero delle strade che devi percorrere se vuoi arrivare al punto finale, la destinazione finale è l'obiettivo generale del nostro programma. Queste, insomma, sottopriorità normalmente vengono chiamati assi, c'è qualcuno che li chiama priority, qualcuno che li chiama challenges, qualcuno che li chiama assi, chiamiamoli assi per intenderci, ma se guardate questa slide, allora se io voglio raggiungere l'obiettivo generale di migliorare la competitività dell'arco alpino, l'idea degli assi vuol dire che è stata autorizzata l'assegnazione finanziaria di tot euro per raggiungere quell'obiettivo generale, ma è stato anche autorizzato il fatto che per raggiungere quell'obiettivo generale un tot di soldi vadano. Asse 1, supportiamo e facilitiamo l'innovazione e l'imprenditorialità, se facciamo questo ovviamente questo concorre allo sviluppo dell'area alpina. Asse 2, miglioriamo la protezione dell'ambiente e miglioriamo la qualità ambientale, questo è un secondo filone strategico che ovviamente converge rispetto all'obiettivo generale. E ora veniamo all'asse 3, altro asse 3 è migliorare l'accessibilità, mentre l'asse 4 è sviluppare sinergie transnazionali per favorire la crescita bilanciata delle varie arie. In tutti i programmi poi c'è un asse, che è solitamente l'ultimo, che serve ad allocare parte del budget per l'assistenza tecnica, quindi per tutto quello che consente alle autorità di gestione di avere un supporto consulenziale esterno per la valutazione dei progetti, la stesura dei bandi e così via. Allora, gli assi, che quindi in questo caso sono assi operativi, sono l'1, l'2, il 3 e il 4. Gli assi sono sempre sottodettagliati in tipologie di progetti che possono essere finanziati. Queste tipologie di progetti vengono chiamate o misure oppure vengono chiamate come in questo caso areas of intervention, aree di intervento possibili. Allora, come vedete ogni asse ha sempre più misure dentro. Anche in questo caso proviamo a fare insieme un esercizio, riprendiamo la nostra palestra da efficientare in termini energetici e cominciamo, ed è questo l'altro messaggio forte di questo webinar, a capire come quello che fino adesso vi ho detto, dobbiamo riuscire a creare una convergenza tra diversi programmi, in realtà significa che noi dobbiamo imparare dentro un programma a identificare più di una strada in cui potremmo farcelo finanziare. Allora, faccio con voi un esercizio. Stiamo cercando soldi per l'efficientamento energetico di una palestra. Cominciamo a capire come sono le misure, quelle che finanziano le azioni. Abbiamo detto che è un progetto insieme di attività, quindi è la misura a livello programmatico a cui devo agganciare il mio progetto. In questo programma noi abbiamo una prima misura, sviluppare network che favoriscano l'innovazione tecnologica e soluzioni avanzate in determinati ambiti. Abbiamo poi la misura 1.2, sviluppare un ambiente che favorisca la nascita di imprenditoria innovativa. Poi abbiamo una misura 1.3, rafforzare le condizioni di contesto che favoriscono la diffusione dell'innovazione. Si è d'accordo con me che se noi diciamo che ad esempio utilizziamo dei biomateriali per creare il cappotto termico interno o esterno per ridurre la dispersione del calore, noi ad esempio il nostro progetto lo potremo tranquillamente posizionare sulla misura 1.1. Stiamo ragionando su reti e tecnologie innovative. Vi torna? Ora andiamo avanti e consideriamo l'asse 2. Dentro l'asse 2 abbiamo una misura 2.1 che è la gestione dell'acqua, la gestione integrata dell'acqua e la prevenzione delle esondazioni. Poi abbiamo una misura 2.2 che è migliorare la capacità di prevenzione dei rischi ambientali, poi abbiamo una misura 2.3 che è promuovere la cooperazione nella valorizzazione delle risorse del patrimonio naturale e delle aree protette e poi abbiamo una misura 2.4 che è promuovere l'energia e l'uso intelligente dell'energia e delle risorse ambientali. Vi torna che anche sulla misura 2.4 noi potremmo proporre la candidatura del nostro progetto e andiamo avanti. Abbiamo l'asse 3. Dentro l'asse 3 noi abbiamo tre misure, l'asse 3.1 che è migliorare il coordinamento nella gestione di soluzioni integrate per il trasporto, diciamo, multimodale con riferimento sia alle reti primarie che alle reti secondarie di trasporto. Poi abbiamo un'asse 3.2 che è sviluppare strategie per fronteggiare il digital divide e poi abbiamo una 3.3 che è migliorare le condizioni di contesto per lo sviluppo di piattaforme multimodali. Ma se noi il nostro intervento di rigenerazione della palestra lo facciamo anche diventare un prototipo di smart building dove tutta una serie di soluzioni legate all'ICT ci consentono l'efficientamento energetico, siete d'accordo con me che possiamo comunque candidare il nostro progetto anche sulla misura 3.2? E vediamo all'asse 4. L'asse 4 ci dice misura 4.1 affrontare i problemi cruciali che affliggono le aree metropolitane e i sistemi di insediamento su base regionale. La misura 4.2 che invece ci dice promuovere una rete integrata di poli differenziati di crescita e la 4.3 che ci dice promuovere l'utilizzo della cultura e del patrimonio culturale per favorire lo sviluppo. Siete d'accordo con me che anche sulla 4.1 se noi comunque anziché costruire una nuova palestra riqualifichiamo e rigeneriamo uno spazio di smesso, il nostro progetto è coerente? Allora tutto quello che ci dicevamo nello scorso webinar in cui sottolineavamo che abbiamo comunque più di 200 programmi di finanziamento a cui possiamo fare riferimento viene amplificato dal fatto che dentro un programma qualunque programma abbiamo sempre assi e misure. E allora perché è importante leggere questo? Perché nella vita vera ci possono essere delle misure cosiddette ad alto tiraggio che hanno esaurito le risorse e delle misure che invece hanno ancora risorse disponibili. Questa capacità di posizionare differentemente il mio progetto dentro un programma mi consente anche di riuscire a tuffarmi in quelle vasche dove l'acqua è maggiore. Vi voglio far vedere che questa struttura è identica anche nei programmi a gestione diretta e con questo per oggi chiudiamo. Prendiamo il sito europafacile.net, dal sito europafacile.net che è uno dei siti di secondo livello gestiti dalla Emilia Romagna e da Hervet, è un sito totalmente gratuito che dà informazioni sui programmi comunitari e usa risorse comunitarie per fare questo tipo di informazioni. Identifichiamo ad esempio che a noi interessa il programma Horizon e ci interessa del programma Horizon tutto quello che ci può anche in questo caso aiutare a intervenire sulla valorizzazione in maniera ecosostenibile di strutture dentro la nostra città. Andiamo nella pagina ufficiale del programma Horizon. Vedete che dentro il programma Horizon è molto carina da vedere, ci sono tutte queste caselle colorate, ogni casella, ogni colore corrisponde a un programma operativo. I programmi operativi sono la stessa cosa che abbiamo visto prima. Dentro un programma operativo prendiamo un viola, societal challenges e supponiamo di ragionare su questa casella su cui sto puntando il mouse, quindi sostenere le trasformazioni socio-economiche e culturali. Che cosa accade quando io clicco su questo che è un asse? Dentro un asse di questo programma operativo mi troverò ovviamente le misure e allora ad esempio troverò approcci innovativi allo sviluppo urbano e regionale che valorizzi il turismo culturale. Ora ve l'ho messo in evidenza perché il 14 marzo non è ancora scaduto, ovviamente pensare a un progetto forse per il 14 marzo è un po' ardito in un mesetto, ma ricordatevi che i programmi a gestione diretta hanno comunque una ciclicità nei bandi e quello che vi voglio far notare è che comunque io mi posso pagare la rigenerazione urbana anche con quello che viene considerato il mostro sacro dei programmi a gestione diretta dell'Unione Europea, Horizon. E questo è il fronte su cui vi dicevo noi continuiamo a restare assolutamente timidi come italiani. Allora anche in questa chiacchierata di oggi diciamo ci siamo spostati un metro più avanti rispetto a quello che ci siamo detti nel webinar dietro, ho provato a condividere con voi che cosa significa ragionare per progetti, significa pensare a come vestire da work plan la nostra lista della spesa, da questo punto ricontinuiamo domani a mezzogiorno per ragionare su bene. Una volta che abbiamo capito quale può essere la nostra idea progetto e quindi ricordatevi che avrete come materiale di supporto gli esempi di concept note e i riferimenti anche a delle scadenze su cui esercitarli. Domani cominceremo a vedere quali sono gli errori che solitamente si fanno quando poi devo scrivere il progetto per esteso. Quindi domani andremo veramente ma soltanto alla fine a concentrarci sul proposal writing, su che cosa significa compilare bene un formulario, quindi come si scrive bene un progetto europeo. Anche per oggi grazie per l'attenzione.